Insomma cari ragazzi oggi voglio parlarvi di un film realmente particolare, un film che si dica sia addirittura maledetto, un film che io acquistai mi pare un anno e mezzo fa, forse due anni fa, e ricorderete che feci anche l'unboxing sul canale e vi dissi che da collezionista ero curioso di recuperare quest'Opera Mortem di David Fleece, pittore inglese, ormai morto da diversi anni, che tra gli anni 70 e gli anni 80, in super 8 mm e VHS, dia de vita, creò, girò quest'Opera Mortem, un film che è stato anche valutato da occultisti che lo han definito un film che rappresentasse o un rito satanico o comunque un rito di magia nera. Da collezionista e da amante dell'horror, e quindi senza secondi fini, perché cerco di stare alla larga da tutte queste cose, ho detto non posso perdermi, non posso non avere in collezione un film che dopo quattro decenni sia tornato diciamo disponibile, perché questo film nel 1973, o qua anche il PC voi non lo vedete aperto, però per avere tutte le informazioni a riguardo il film nel 1973 al Nottingham's Odeon Film Theater, ha avuto la sua prima ed unica proiezione e dopo questa proiezione alcune persone si sono sentite male e sono morte. Quanto sia leggenda, quanto sia realistico il tutto, non lo sappiamo. Fatto sta che questo film, dissi, lo voglio avere, lo voglio avere perché chissà che poi, dopo che sono passati tutti questi anni e sia finalmente reperibile in commercio, non torni nell'oscurità e non si possa più rintracciare. Grazie a Tetro Video il film è ancora disponibile sul sito. Io non avevo ancora visionato Opera Mortem, però diciamo che insieme a mio cugino, nelle sere scorse, anche lui cresciuto a pane horror, ci siamo imbattuti, ci siamo decisi a visionarlo. Io mastico horror da quando sono bambino, uno dei primi film che ho visto è stato Scream e lì la mia passione poi è aumentata sempre più, Nightmare, L'Esorcista, insomma, sono stato un bambino che al posto di giocare con i Needle, come facevano i miei compagni alle elementari, si guardava magari un Freddy Krueger che arrivava ad uccidere nei sogni e lì poi la mia passione per il cinema è aumentata. Sono sempre stato affascinato da queste leggende, da questi film un po' considerati maledetti, no? Solo l'anno scorso parlai di Antrum che è un film uscito su Prime Video che realmente mi spaventò e che mi piacque tantissimo e nel caso non l'aveste visto il mio video recuperatevelo, poi si scoprì che anche lì fu tutta strategia di marketing alla The Blair Witch Project, che non fosse vero, che ci fosse insomma, che il film fosse di anni e anni e anni fa, che fu ritrovata assolutamente no, è tutto marketing, il film è stato girato negli anni scorsi, a differenza di Opera Mortem che da quel che leggo e da quel che ho scoperto su internet realmente, realmente è stato studiato tra gli anni 70 e gli anni 80, realmente il film cadde poi nel dimenticatoio, ma sappiamo che il figlio di David Fleece, per disconoscere anche il padre, ha voluto vendere i diritti di questo film dalla durata di 70 minuti e quindi l'ha venduto al collezionista italiano Giovanni Mele. È proprio grazie a Giovanni Mele che il film è stato rimasterizzato digitalmente e restaurato in 2K, cercando di mostrarlo in maniera integrale, e devo dirvi la verità, vedendolo realmente il film sa disturbare. Sembra quasi di vedere, se avete visto The Ring, il video maledetto di The Ring, sono immagini per 70 minuti senza senso, immagine con una cronologia frammentata, con questo bianco e nero ma con anche questo blu e rosso in stile 3D che prende il sopravvento e con frequenze talmente basse che si contrappongono a frequenze che invece con la loro rumorosità tendono a infastidire lo spettatore, a creare disagio, è un film che realmente unisce, miscela insieme tutto ciò che di peggio possiate pensare. In questo film, ripeto, possiamo trovare inni al demonio, sembra quasi di vedere un rito satanico in video, possiamo vedere pornografia esplicita, possiamo vedere cattiveria esplicita, con immagini che non ti sai spiegare, con immagini che semplicemente avendo anche una rotazione contraria, quasi tutto il film si svolge al contrario, cioè non è di fuori che la fine sia l'inizio e viceversa, perché molto spesso vediamo le cose rovesciate, vediamo insomma il frame che va all'indietro, ci sono tantissimi messaggi subliminali, tantissimi simboli, è un film che sicuramente non puoi vedere aspettandoti una trama, cioè se in Antrum comunque una trama c'era e poi c'erano comunque degli, come potrei definirli, in Antrum c'era una trama ma allo stesso tempo c'erano degli inserti spaventosi, in questo caso è come realmente se ci trovassimo di fronte ad un video incomprensibile ma allo stesso tempo malato, allo stesso tempo perverso, che per quanto non possiate capire razionalizza il vostro cervello e che sicuramente vi fa provare disagio, io sono convinto che l'avessi visto da solo, realmente forse non ce l'avrei fatta ad arrivare alla fine, fortunatamente vederlo in due ha anche aiutato ad accompagnare la visione, perché magari cercavamo di smorzare con una risata ogni tanto, però non è un film che consiglierei, se non a chi come me è un collezionista, è un amante dell'horror e per chi voglia avere in collezione comunque un pezzo rarissimo, che poi sia tutta una pagliacciata, che poi magari non sia vero niente, sicuramente è allo stesso tempo vero che influenze negative il film le attiri, in che senso? Se te guardi questo film dopo sei suggestionato negativamente, c'è poco da fare, cioè se te ti guardi una commedia poi ridi e quindi percepisci vibes positive, se te ti guardi un horror è ovvio che percepisci delle influenze negative, che magari poi hai problemi a dormire, ce le creiamo noi, questo non vuol dire che per forza esista qualcosa, questo lo deve decidere la persona in base alla propria sensibilità, ma vi assicuro che è un film che lascia il segno, è un film che riesce davvero a sconvolgere, poi dipende ripeto dalla soggettività, dalla sensibilità delle persone, però ecco, io su tetro video non compro mai, perché comunque a me non interessano quei film dove magari si tende esclusivamente a scioccare attraverso lo splatter, il gore esplicito, senza nemmeno l'ausilio di una trama a sorreggere il tutto, cioè fino a che si parla di un human centipede da serbian film, che per quanto siano tremendi, atroz, per quanto siano tremendi abbiano una trama, ok, però quei film magari dove si punta esclusivamente sullo scioccare, senza una base anche di trama a sorreggere il tutto, beh, mi interessano poco, ormai noto che sempre più a livello indipendente si punti su questi film veramente malati, veramente macabri e io non sono interessato, Opera Mortem è stata un'eccezione, che ho voluto comprare per l'aura di mistero, di inquietudine che si portava dietro, sapendo anche che, insomma, è stato proiettato una sola volta, è stato girato in dieci anni, figli hanno disconosciuto il lavoro del padre, ero realmente curioso di vedere a cosa mi sarei trovato di fronte, nel DVD c'è anche il poster, ripeto, il pittore David Fleece, dadaista, surrealista, percepiamo anche guardando gli extra del film in cui vengono mostrati i suoi dipinti, quanto fosse, secondo me, anche sotto gli effetti di Acidi, perché realmente guardi questi dipinti, guardi queste opere che lui faceva e percepisci che non abbiano senso, se non il cercare di contrastare i qualsiasi bene al male, cioè in ogni immagine percepiamo quanto volesse andare controcorrente, e quindi volesse seguire una strada particolare, inquietante e che sicuramente, beh, almeno secondo me, scaturisse anche per problemi mentali che avesse questo tizio, però quindi ci tenevo a parlarne perché so che poi quando parlo di questi film particolari la curiosità aumenta, però realmente non vi trovereste di fronte a IT, cioè cercate di capire, vi trovereste di fronte ad un film realmente particolare, realmente inquietante, veramente vi trovereste a disagio, quindi il mio consiglio è quello di vederlo di giorno, è quello di vederlo con un'altra persona, perché comunque, ripeto, non è un film che presenti jumpscare, cioè non aspettatevi l'horror che siete abituati a vedere, è un film che crea disagio, perché semplicemente vedere anche, immaginatevi, una scena in bianco e nero in cui vediamo, percepiamo, per meglio dire, che ci sia qualcosa di scabroso sullo schermo ma non riesci a comprendere cosa, e questa frequenza bassa, che poi alza sempre di più le proprie frequenze fino a percepire un ago nell'orecchio, non è la cosa più gradevole che possiate scovare e percepire. Quindi, con tutte le dovute cautele, se volete, potreste trovare ancora in vendita opera morte. Io volevo parlarvene e a me ha creato realmente disagio, paura e sicuramente ansia, perché se c'è una cosa che a me fa paura è realmente l'incomprensibile. È quello che percepisci subliminalmente che ti stia facendo effetto ma non sai capire perché. Cioè fa molto più paura molto spesso un suono che il mostro che ti appare. Fa molta più paura l'immagine sgranata in bianco e nero, psichedelica. È un film che ovviamente all'inizio ti avverte, se hai questi problemi non guardarlo. È un film che potrebbe indurti ad attacchi di panico, attacchi d'ansia, perché è un film molto psichedelico dove le immagini sono luminose, si alternano, sono velocizzate, sono montate talvolta lentissimamente, altre volte velocissimamente. È un film dove, ripeto, non si segue un filo logico, ma dove vi trovereste di fronte realmente ad un qualcosa di molto 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 grottesco e anche blasfemo. Quindi con vostro rischio e pericolo di dormire una notte con la luce accesa, Opera Mortem potrebbe essere il film che fa al caso vostro. Ragazzi, fatemi sapere se l'aveste visto nel caso foste interessati, però ovviamente guardatelo sempre con fini di riscoprire un film perduto che è stato messo invece in vendita che con altri, perché è sempre meglio non scherzare con certe cose. Un caro saluto, noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione, però mi andava di parlarvi anche di questo film. Ciao!